È stato condannato per rapine improprie e lesioni il ragazzo di 20 anni di guppio che lo scorso lunedì in un supermercato della prima periferia gubina ha prelevato dagli scaffali dell'esercizio due bottiglie di alcolici una di vodka e una di champagne dal valore di 89 euro per poi darsi alla fuga senza pagare il dovuto scontrandosi usando violenza contro il responsabile della sicurezza e due dipendenti del punto vendita prima di essere fermato dai carabinieri dell'aliquota radiomobile di gubbio davanti al giudice Alberto Avenoso del tribunale di Perugia si è svolto nella giornata di ieri il processo per direttissima è stato convalidato l'arresto del ventenne difeso dall'avvocato Francesca Pieri ma non è stata erogata nessuna misura cautelare nei suoi confronti il giovane è stato dunque liberato pena patteggiata ad un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione con sospensione condizionale della pena